Mai come quest'anno il tema della valutazione conclusiva degli alunni sta animando il dibattito fra i docenti e fra gli esperti della materia. Si torna a parlare con insistenza di valutazione formativa per contrapporla, per la verità non sempre a proposito, con la valutazione sommativa o con la certificazione finale. Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado si sta parlando molto della possibilità di non usare il voto numerico, tema sul quale si è persino creato uno schieramento piuttosto ampio di associazioni professionali e di genitori che chiedono una soluzione per affrontare in modo ragionevole l'emergenza dei prossimi scrutini finali ormai imminenti. Di parere contrario è la ex ministra Maria Stella Gelmini che afferma che non ci debbano essere bocciature, siamo tutti d'accordo, ma equiparare il primo all'ultimo della classe non è una operazione di buon senso. Il tema è talmente sentito che se ne parlerà anche nei prossimi giorni al Senato in occasione del dibattito per la conversione in legge del decreto scuola. La senatrice PD Vannaiori infatti ha già depositato un emendamento che recita esattamente così. Limitatamente all'anno scolastico 2019-2020 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il voto sull'emendamento potrebbe arrivare già giovedì quando la Commissione Cultura del Senato dovrà esprimersi su 400 proposte di modifica al decreto scuola e in particolare su quelle relative ai concorsi, molto attese da almeno 200.000 precari. Nelle ultime ore a dare manforte alla senatrice Iori è intervenuta Camilla Sgambato, responsabile scuola del PD, segno che il tema è molto sentito anche a livello politico. Il problema era stato posto dai sindacati nel corso dell'incontro svolto con il Ministero qualche giorno fa, ma il capo dipartimento Max Bruschi era stato chiaro e netto. Le norme attuali non consentono ai collegi dei docenti, aveva detto Bruschi, di sostituire il voto numerico con altre modalità valutative, neppure nella scuola del primo ciclo. Ci sono però buone possibilità che alla fine, almeno nella scuola primaria, i docenti non debbano essere costretti ad usare un voto numerico che non consentirebbe di tenere conto delle molteplici situazioni di alunni che non sono riusciti neppure a seguire adeguatamente le lezioni o a svolgere compiti e verifiche. Per la verità c'è da augurarsi che sul problema della valutazione degli alunni, soprattutto nella scuola del primo ciclo e nella primaria in particolare, non cali il silenzio ad emergenza conclusa. D'altronde le stesse associazioni che hanno sottoscritto il documento per chiedere che nell'immediato si elimini l'obbligo del voto numerico negli scrutini finali delle scuole del primo ciclo, si prefiggono proprio l'obiettivo di una revisione significativa delle norme in vigore. Facendolo si riconoscerebbe anche l'importanza di una tradizione culturale e pedagogica che in Italia viene da lontano. I primi studi sul tema della valutazione formativa risalgono addirittura agli anni 50 e alle ricerche di Aldo Visalberghi. Ricerche tradotte in pratica didattica da grandi maestri e pedagogisti come Mariolodi e Bruno Ciari, il cui insegnamento è ancora oggi vivo e attuale. Ovviamente su questo tema noi continueremo ancora perché è un tema particolarmente vivo, quindi ne riparleremo soprattutto dopo il voto che ci sarà al Senato. Quindi continuate a seguirci sia su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it e soprattutto continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni, i vostri commenti.